Ti tolgo un fiato. A vederti sembri uno che ha un attacco tremendo di grabbi. Tanto non mi arrabbio oggi. Ho il piano di endorfina, sto alla grande. Vuoi fare un giro? No, ho eliminato quegli esercizi dal mio allenamento. Ma con questi movimenti dinamici che rinforzano e sono cardiotonici, nello stesso tempo riduci a metà l'allenamento. No, no, no. Flessibilità e mobilità. È la regola del 2017. Chi te l'ha detto? Che vuol dire? Chi me l'ha detto? Credi che non sia in grado di pensare da solo? Scusa. D'accordo. L'ho sentito in un programma che stava ascoltando Anna. Ti pari qualcosa di nuovo da un esperto? Comunque non è male. Sì, certo. Ma hai detto esperto e questo è il problema. Non ci sono esperti in questi podcast. Lì non servono lauree o qualifiche. Le sole cose che devi avere sono un computer, un microfono, le opinioni molto decise. So che fanno ricerche prima di ogni podcast. No, nessuna ricerca. Come lo sai? Come lo so. Perché ogni frase comincia sempre con... Sapete, ho letto da qualche parte... Torna allo traffic. Ciao. Buongiorno. È molto che si sveglia. Da un po'. Amore, mi dispiace che tu non dormi. Posso fare qualcosa per te? Stanotte però ho dormito bene. Davvero? È incredibile. Era da un po' che non dormivo così bene. Sto benissimo. È fantastico. Dobbiamo festeggiare. Sai come festeggiiamo? Grandi frittate. Le mie famose frittate. Poi faremo stand-up boarding giù. C'è un tizio che affitta delle tavole nuove. Le tavole leis. Sì. Sta zitto. Santo cielo, sì. Che infodoria. Che succede? Ciao. Cos'è? Il paradiso? Voglio solo dirti grazie. Grazie per cosa? Per tutto. Tu sei stata forte. Io ero solo al tuo fianco. Amore. Non lo sai quanto ne abboglia, non te la senti? Sì. No. Non rispondere. Lascia stare. Non rispondere. Non farlo, amore. Non farlo. Mettilo giù. Mettilo giù. No, no. Sarà una banca. Un aggiornamento delle tue quote azionarie. Lascia non... Oh. Sì. Dobbiamo andare. No, non dobbiamo andare. Dai, che andiamo andare. Sì, sì, sì. No, aspetta. Dobbiamo parlare. No, che parlare? Voglio dire... Oh, cavolo. Se mi dai soltanto quattro minuti, due e mezzo, che si... Sì. Grazie a tutti.